State per ascoltare il podcast di liturgia e musica sacra, un progetto di Aurelio Porfiri. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di liturgia e musica sacra. Io sono Aurelio Porfiri. Oggi voglio fare un salto di qualche secolo addietro, sempre partendo dalla mia Roma, e vi voglio parlare di un documento che fu pubblicato alla vigilia di un giubileo, come siamo anche noi oggi, siamo alla vigilia di un giubileo. Ecco, questo documento fu pubblicato nell'anno 1749 e fu pubblicato dal Papa Benedetto XIV, Papa Lambertini. Questo documento si chiama Annusquiung, ed è un documento molto singolare in un certo senso, perché è un documento in cui praticamente il Papa fa un ragionamento abbastanza, devo dire, di buonsenso. Cioè, lui dice, siamo alla vigilia di un giubileo. Quindi si presuppone, o anzi si assicuri, che presto Roma verrà inondata di pellegrini. Quella ovviamente era la speranza, ma era a quei tempi anche la certezza, perché appunto l'andare a Roma era veramente uno degli elementi comunque fondanti del pellegrinaggio del giubileo. Allora il Papa diceva, se questi pellegrini vengono a Roma e ne ottengono un cattivo esempio, come la Chiesa Cattolica anche in un certo senso ne risulterà, perché in fondo è proprio quello che in sintesi, in questo documento devo dire anche molto dotto, perché il Papa si profonde in tantissime citazioni di autorità di vario tipo nel campo della liturgia e soprattutto della musica sagra, perché si occupa molto di musica sagra in questo documento e verrò presto a spiegarlo. Quello che il Papa appunto cercava di far capire è che se dobbiamo ricevere degli ospiti, dobbiamo essere pure sicuri che la casa sia in ordine. In questo caso la casa di Dio, cioè le chiese. Perché il Papa faceva questo discorso nei riguardi della liturgia e non solo? Perché evidentemente le cose al suo tempo a Roma e non solo non erano tanto rose. Pensiamo per esempio al discorso che il Papa fa nell'anno qui riguardo il canto delle ore dell'ufficio, delle ore canoniche, in cui il Papa si raccomanda che venga eseguito questo canto dell'ufficio nel modo proprio, in modo da far intendere bene il testo e dà anche proprio una specie di consigli per fare in modo che appunto questo ufficio sia fatto nel modo in cui deve essere fatto. Per quanto riguarda la musica sagra, dobbiamo pensare una cosa abbastanza importante che precede di qualche secolo il periodo in cui il documento viene emanato. Cioè che più o meno dalla fine del rinascimento dal barocco c'è un fenomeno importante e questo fenomeno è che praticamente la musica strumentale comincia a diventare molto importante e anche forse più importante della musica vocale e della musica sacra. In precedenza la musica vocale e la musica sacra era la matrice di tutto il fare musica o di gran parte del fare musica, ma in questo periodo più o meno si comincia ad avere un'indipendenza da parte di quella che possiamo ancora definire musica profana su quella che era la musica sacra. Questa indipendenza dalla musica strumentale non deve farci pensare che la musica vocale non ha importanza anche nell'epoca barocca perché ce l'ha, ma il problema è un altro che proprio in questo periodo comincia a avere forma un nuovo genere musicale che è quello dell'opera. L'opera che è appunto un genere profano in cui si parla di amori, di tradimenti, di cose di questo tipo l'opera prende molto piede e conquista il gusto non solo delle classi agiate ma anche quello delle classi popolari e che cosa succede? Che il linguaggio dell'opera comincia a invadere anche il campo della musica sacra. Quindi quello che Benedetto XIV dice nel suo documento è una testimonianza di questo fenomeno che al suo tempo era ovviamente molto ben avviato e che lo rimarrà bisogna dire per almeno un altro secolo e mezzo. E lui dice che appunto bisognerebbe evitare in tutti i modi che ci sia commistione fra la musica teatrale e la musica sacra. Perché diceva questo? Perché ovviamente la commistione ce n'era e come. Cioè in un certo senso era accaduto che non c'era quel necessario equilibrio fra la musica e la sua funzione rituale. Perché la musica sacra, se è sacra, se è liturgica, deve avere una funzione rituale. La musica nella liturgia è per la liturgia, non è per una autocelebrazione della musica stessa. Ecco, lì era successo che in un certo senso la musica, anche bellissima, perché comunque stiamo parlando di capolavori musicali che ancora oggi vengono eseguiti in concerto, e ha ragione perché si tratta di grande musica, ma per le sue proporzioni anche di tempo, aveva praticamente quasi abdicato alla sua funzione rituale per divenire appunto una celebrazione di se stessa. Come ho detto, questo fenomeno andrà avanti ancora per almeno un secolo e mezzo, tanto che un secolo dopo questo documento di Benedetto XIV, ancora ci sono testimonianze che io ho trovato in un archivio, per cui quando veniva, venne commissionato un vespro a un compositore e la raccomandazione che si faceva era proprio quella di attenersi al tempo che veniva dato, che era comunque un tempo molto ampio, se noi pensiamo con le categorie mentali di oggi, ma quel compositore non accettò proprio perché non si sentiva di rimanere in un ambito temporale che lui giudicava così ristretto. Ecco, questa era un po' la realtà che si viveva in quel tempo e il Papa Lambertini, in un documento, ripeto, molto bello a mio avviso, che dovrebbe essere riletto e dovrebbe essere riconsiderato o ristudiato, cercava di porre rimedio ad alcuni di questi problemi. Allora, quello che noi potremmo pensare oggi, proprio alla luce di una rilettura di questo documento, è come noi dovremmo porci nel nostro tempo, nel 2024, alla vigilia di un altro giubileo, nei confronti appunto della musica che viene eseguita nelle nostre chiese, non solo a Roma, e che chiese che dovrebbero accogliere i pellegrini. Purtroppo non credo che l'affluenza in percentuale sia la stessa di un tempo, perché anche se ovviamente oggi viaggiare è molto più facile, ma sappiamo anche che il processo di secolarizzazione ha allontanato tantissime persone dalla pratica religiosa, quindi sì, ci potranno essere persone che vengono a Roma per godersi Roma, ma non credo certamente per partecipare al giubileo. Comunque, anche coloro che partecipassero al giubileo, e saranno tanti comunque, certamente non è che si parla di poche decine di migliaia di persone, e comunque dovrebbero avere a disposizione una liturgia e una musica sacra che siano veramente tali, tali e non dei prodotti di una ideologia. Noi dovremmo cercare di dimostrare che nella mezza rinnovata è possibile produrre, e si sono prodotti anche, questo lo posso dire senza fare i nomi, perché è antipatico fare i nomi, perché poi uno si dimentica, ma posso dire che ci sono stati e ci sono compositori veramente validi per quello che riguarda il campo della musica liturgica che hanno prodotto per la liturgia rinnovata. Io farò solo due nomi di due persone che non ci sono più. Una che mi sembra di aver conosciuto una volta e che conoscevo di fama è che è Monsignor Luciano Migliavacca, che era al Duomo di Milano, un musicista veramente molto preparato e che ha prodotto tanto anche per la liturgia rinnovata, e un altro che era un mio amico, ma che era anche uno dei compositori inglesi più conosciuti nel campo della musica sacra e che era Colin Moby, un grande autore che ha prodotto anche lui tantissimo per la liturgia rinnovata, però è raro da noi sentire questi ed altri che sono ancora viventi nelle nostre chiese. Purtroppo a volte capita che accadono due fenomeni principali. Il primo è che ci vengono fatte subire questi canti melensi, questa roba veramente dozzinale che dovrebbe essere bandita dalle chiese perché non aiuta le persone a pregare, ma aiuta soltanto a cadere nel sentimentalismo che, come giustamente diceva San Pio X nel 1907 nella sua Paschendi, non è certamente un qualcosa che favorisce l'attingere all'autentico spirito cristiano come appunto lo stesso San Pio X già suggeriva nel suo modo proprio del 22 novembre 1903. Quindi questa è una delle piaghe che noi viviamo in molte delle nostre liturgie, purtroppo anche incoraggiata da parte di alcuni nella gerarchia che evidentemente non avendo la preparazione musicale necessaria non sanno veramente discernere quello che è buono da quello che non lo è. Il secondo fenomeno che accade, io l'ho visto oramai in varie delle nostre chiese, è che praticamente ovviamente si è quasi fossilizzata una pratica per cui si cantano molto spesso quei canti che furono composti all'inizio proprio perché si diceva, quindi si parla di 60 anni fa e anche più, si diceva che erano i primi canti che venivano fatti in lingua bernacolare proprio per fornire alle chiese un repertorio base con la speranza che in seguito poi si sarebbe fatto molto di più e molto meglio. E ripeto, si tratta anche di cose sicuramente non disprezzabili. Alcuni canti del padre da Milano come il A te signor leviamo i cuori, per esempio, penso che veramente di più di 60 anni fa pensiamo per esempio ad alcune cose di Picchi che comunque era un musicista di tutto rispetto, veramente di tutto rispetto e come un altro musicista di tutto rispetto era Mario Scapin di cui ancora oggi noi cantiamo Il Santo. e spesso quando il suo santo viene intonato io tiro un sospiro di sollievo perché mi sono scampato di avere qualche altro santo un po' peregrino, non intorno peregrino, ma peregrino nel senso che veramente sono cose che non dovrebbero essere permesse nelle nostre chiese. Ecco, io penso che bisognerebbe fare una riflessione seria su tutto questo, bisognerebbe capire perché appunto è accaduta questa fossilizzazione e già questa fossilizzazione è il segno di una crisi profonda della musica sagra, della musica nella liturgia, è una crisi profonda che a me sembra e forse sbaglierò anche, non si affronta con la necessaria forza, con il necessario vigore, anche perché purtroppo in Italia siamo spesso preda di appartenenze a gruppi vari e questo non aiuta perché poi ci sono le difese corporative che non aiutano a vedere le cose chiaramente. Io che, grazie a Dio, non ho mai voluto appartenere a nessuno dei gruppi vari che imperversano qui da noi, che hanno pure delle dimensioni del tutto rispettabili e credo che vedo con una certa oggettività quello che mi accade intorno e oramai tutti questi fenomeni li osservo da potrei dire quasi 40 anni, quindi non è poco non è poco per niente e ho visto insomma anche tutto lo sviluppo almeno diciamo andando dalla dagli ultimi anni di Paolo VI in cui appunto io ero un ragazzino ma insomma mi ricordo ancora quello che si faceva nella mia parrocchia fino ai giorni nostri e poi io avendo anche avuto la fortuna di essere il maestro della chiesa cattolica americana a Roma per dieci anni e avendo vissuto e insegnato in Asia per sette anni quindi ho anche una prospettiva più internazionale rispetto magari a tanti che hanno sempre operato qui in Italia quindi ecco io credo che in vista di questo giubileo sarebbe bello pensare che ci possa essere una una presa di coscienza sulla situazione che viviamo in modo da poter fare meno che fare a meno di queste musiche indegne vengono eseguite nelle nostre chiese e poter tutti quanti testimoniare una musica che sia degna della gloria di Dio e che veramente contribuisca all'edificazione dei fedeli io vi ringrazio molto per aver ascoltato questo podcast sono sicuro che chi ascolterà avrà anche delle opinioni che se volete esprimere ovviamente in modo costruttivo anche critico se volete ma costruttivo io sarò contento di leggere quello che voi vorrete dire se non l'avete fatto iscrivetevi alla nostra newsletter io nel frattempo vi ringrazio e vi do appuntamento ai nostri prossimi podcast e vi auguro una buona fine di questo caldissimo agosto avete ascoltato il podcast di liturgia e musica sacra un progetto di Aurelio Porfiri fateci sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi alla newsletter sulla liturgia e musica sacra musicasacra.substech.com seguiteci anche sul canale youtube ritorno a Itaca e sul canale telegram di Aurelio Porfiri a Itaca